Ci sono altri amori. Anche il mondo ci propone altri amori. L'amore al denaro, per esempio. L'amore alla vanità, al pavoneggiarsi. L'amore all'orgoglio, l'amore al potere, anche facendo tante cose ingiuste per avere più potere. Sono altri amori. Questi non sono di Gesù e non sono del Padre. Lui ci chiede di rimanere nell'amore suo, che è l'amore del Padre. Pensiamo anche a questi altri amori che ci allontanano dall'amore di Gesù. E anche ci sono altre misure di amare. Amare a metà. Questo non è amare. Una cosa è volere bene e un'altra cosa è amare. Ogni giorno si deve imparare l'arte di amare. Ma sentite questo, eh? Ogni giorno si deve imparare l'arte di amare. Ogni giorno si deve seguire con pazienza la scuola di Cristo. Ogni giorno si deve perdonare e guardare Gesù. E questo con l'aiuto di questo Avvocato, di questo Consolatore che Gesù ci ha inviato, che è lo Spirito Santo. Chiama il dolce ospite del cuore. E qui. Ma in un cuore chiuso non può entrare. Ah, e dove si comprano le chiave per aprire il cuore? No, è un dono anche quello. È un dono di Dio. Signore, aprimi il cuore perché entri lo Spirito. E mi faccia capire che Gesù è il Signore. Signore.